Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oppo Reno 2Z è la versione più economica del famoso Oppo Reno 2 Ha delle specifiche inferiori ma ne varrà comunque la pena Scopriamolo dopo la intro Partiamo dall'unboxing La confezione è questa qui che state vedendo alle mie spalle Comunque ha il suo interno C'è lo smartphone ovviamente C'è una cover in pelle che è molto carina C'è il caricatore SuperVoc Comunque è una tecnologia che permette la ricarica veloce dello smartphone Poi il cavo invece è un classico da USB a Type-C Poi c'è la spilletta per aprire il carrellino Che può aspettare due nano SIM più una micro SD Ovviamente comunque potete mettere anche una sola SIM Poi i manoletti di istruzioni rapidi E nient'altro comunque confezione che va bene Partiamo invece di qualità costruttiva e materiale Davvero un design bellissimo Con questo retro che io comunque ho provato la versione bianca Ma anche quella nera comunque è molto bella Comunque abbiamo un frame in metallo E il retro in vetro stondato Quindi davvero molto bello Comunque in un telefono pesante sono 195 grammi Comunque d'altronde comunque ha una batteria da 4000 ampere Quindi comunque il peso ce lo devo avere Comunque devo dire che si riesce comunque a usare Con una mano comunque è difficile come tutti i telefoni Comunque d'altronde lo schermo è un 6,53 pollice Quindi un display molto grande E' un po' scivoloso ma non tantissimo E anche la camera pop-up Comunque devo dire che mi sembra un meccanismo rapido Comunque resistente Comunque come vi ho detto nella recensione di un altro smartphone Di un altro brand Ci sarebbe da provare a lungo Per vedere se anche dopo due anni Comunque la camera funziona ancora Se ha criticità varia Comunque durante le mie settimane di utilizzo Si è comportato bene Comunque pur considerando che comunque io non mi faccio mai selfie Quindi la camera è rimasta sempre chiusa alla fine Comunque sì qualche volta è divertente E far scorrere la pop-up Che comunque è carinissima Comunque i led che si possono cambiare anche il colore Ma comunque bisognerà comunque provarlo più a lungo Per poterlo sapere Sul lato frontale c'è il display che è un 6,53 pollici E un AMOLED Sotto il display c'è un lettore di impronte Che è molto veloce e molto preciso La capsula auricolare e i sensori di luminosità e di prisionità Sono nel piccolo buchetto, un piccolo spazio Che c'è tra lo schermo e la scocca Quindi comunque devo dire che funzionano bene Mentre la camera è pop-up È sulla parte inferiore della scocca Insieme a un microfono Comunque come vi ho detto c'è pure un led rgb Che si illumina quando si strike Mentre sul lato destro del telefono C'è il tasto di accensione E il carrellino che può ospitare due nano sim E una micro sd Il bilanciere del volume è sul lato sinistro Mentre sul bordo inferiore c'è lo speaker di sistema Il gioco per le cuffie L'USB Type-C E un microfono Mentre sul retro c'è una quad camera Con un sensore standard Uno grande angolare Due sensori da 2 megapixel Uno per l'effetto bokeh E uno in bianco e nero per catturare più luce Poi comunque c'è anche il flash LED O comunque sul retro non c'è nient'altro Perché il lettore di impronte è sotto lo schermo Non vi ho parlato dello sblocco facciale Comunque c'è che la camera deve anche uscire Tramite il sistema app-up Devo dire che comunque lo sblocco è molto veloce E funziona sempre praticamente Poi sì non è sicuro perché è 2D Ma comunque c'è E si comporta molto bene Oltre ad essere comunque molto carino Perché comunque si illumina anche il LED Comunque diciamo che l'effetto wow c'è sempre Anche comunque lo sblocco collettore di impronte sotto lo schermo Devo dire che è molto veloce e molto preciso Prende sempre il dito Tranne una volta che avevo le mani bagnate Non sono riuscito Ma comunque in generale funziona davvero sempre In tutte le condizioni di utilizzo Adesso invece vediamo le specifiche tecniche Display 6,5 pollici AMOLED Full HD Plus Processore Mediatek Helio P90 Octa-Core Con GPU PowerVR GM9446 RAM 8GB Memoria interna 128GB Espandibili tramite microSD Comunque il carellino Abberente slot Quindi l'espansione si può inserire sempre Fotocamere posteriore di 48MP F1.7 Più 8MP F2.2 Più 2MP In bianco e nero Più 2MP Per l'effetto bokeh Fotocamera anteriore 16MP Con sistema A pop-up Con utilità Wi-Fi dual band NFC GPS Bluetooth 5.0 E supporto al dual sim Batteria 4000A Con ricarica Rapida Super Vogue Di Oppo Sistema operativo Color OS 6.1 Con base Android 9.0 Pi Parliamo del display Che convince assolutamente Di un pannello Da 6,53 pollici E un AMOLED Full HD Plus Un pannello Molto luminoso Con colori Belli saturi Che mi piacciono a me Comunque La luminosità automatica Funziona bene Anche se qualche volta Si abbassa un po' troppo Ma comunque In generale Non dà problemi C'è anche L'always phone display Ma purtroppo Segna solo data e ora E nessuna notifica I colori sono molto buoni E anche i neri Con cui sono perfetti Essendo un AMOLED Anche gli angoli di visione Con cui sono perfetti Nessun tipo di problema Parte telefonica Molto bene La ricezione è ottima Prende sempre Anche se ha avuto Qualche volta In cui ha avuto La necessità Di rimuovere La connessione Dati e rimettere Perché non prendeva Comunque Ma penso che sia Comunque un problema Di Vodafone E non del telefono Comunque in generale Ho sempre fatto 100 MB per seconda Comunque a Milano Quindi comunque La ricezione Funziona bene Anche l'audio in chiamata Comunque bene Volume alto E si sente bene Ho apprezzato Che la capsula auricolare Si è ampia Quindi si centra sempre Il telefono Con l'orecchio Quindi in questo modo Non c'è mai Da dove lo spostare Da un punto all'altro Come succede Con altri telefoni Anche di quelli Con noccia goccia Perché non so perché Hanno la capsula auricolare Un po' decentrata Quindi non per questione estetica Ma comunque Bisogna centrare bene Il telefono Colore che cosa che invece Con questo Oppo Reno 2Z Non si ha questo tipo di problema Mentre Wi-Fi Dual Band Prende molto bene Nessun tipo di problema Il Bluetooth 5.0 Funziona bene Abbiamo l'NFC Il GPS È un fix rapido Abbiamo comunque L'NFC Il gioco è per le cuffie E la porta USB Type-C Mentre adesso Un'autodolente del software Abbiamo la ColorOS 6.1 Con base Android 9.0 Pie E purtroppo le patch Sono di agosto 2019 Quindi davvero Ormai siamo Quasi a dicembre Abbiamo le patch di agosto Quindi davvero Patch vecchissime Spero che comunque Si aggiornano Comunque dovrebbe arrivare Anche la ColorOS 7 Con base Android 10 Che comunque È prevista Per il primo quarto Del 2020 Quindi c'è un po' Da aspettare Ancora Anche se non tantissimo Ma ormai Siamo quasi a dicembre Quindi comunque Non tantissimo Anche se comunque Avrei preferito A fare il tovallaggio a bordo Comunque come Lato estetico Devo dire che Non è bellissimo Come interfaccia Il launcher Così così Comunque Al drawer Quindi comunque È una cosa positiva Non si possono Cambiare I compact Tra l'altro Non c'è nemmeno Uno store di temi Ce ne sono 5 più installati Che sono brutti Comunque È vero Si può cambiare Launcher Mi è piaciuta invece La pagina a sinistra Con i widget Quella mi è piaciuta È comoda È carina Poi invece I toggle rapidi A quadratoni Davvero Sono comunque Brutti Comodi Alla fine Ma comunque Occupano troppo spazio Poi Le notifiche Meno importanti In una tab A parte È una cosa davvero Scomoda Comunque alla fine Quelle notifiche Non le vedrete mai È vero Che non sono utili Ma comunque Considerando poi anche Che le notifiche Quelle persistenti Sono nel tab Principale E poi comunque Dato che vi parlo di notifiche Vi segnerò un bug strano Che ho notato Praticamente Quando avete Un'app Che rimane sempre In esecuzione Che lasciate anche La notifica Sempre attiva Succede che a volte La notifica Scompara dalla tendina Vedete comunque Che c'è lo spazio vuoto Nella tendina Che ci sarebbe La notifica Ma non l'avete Quindi Finché non riavviate Il telefono Fate prima comunque A stoppare l'app Dalle impostazioni Comunque Avrete quello spazio inutile E l'app Ancora in esecuzione Perché lo capite Anche che Si capisce Che è ancora in esecuzione Perché l'iconcina È ancora Nella sotto sbarro Quindi comunque Una cosa davvero scomoda Poi le impostazioni Sono molto iOS style Ci sono molte traduzioni Fatte male Così qualche La Qualche impuntamento C'è La tastiera Invece La Gboard Comunque Anche se ha un tema Suo Comunque Si può cambiare Poi una cosa Sulla gestione Delle notifiche Praticamente Su Android Stock O su altre interfacce Possiamo scegliere Se tutte le app Mostrano o meno I contenuti sensibili Delle notifiche Nella local screen Mentre in questo Oppo Ma anche Tutti gli altri Con Color OS Almeno in versione 6.1 Di default Tutte le app Hanno le notifiche Con i contenuti Nella schermata Di sblocco Quindi se vogliamo Quindi se vogliamo avere Soltanto Tipo La notifica Da Gmail Soltà Il test Delle email Dovete andare App per app E modificare L'impostazione Quindi si perde Un bel po' Di tempo Quindi comunque Interfaccia Che non mi ha convinto Non è bruttissima Comunque Funziona tutto sommato Bene Comunque spero Che possa migliorarla Col tempo Ho registrato Anche un approfondimento Dedicato soltanto Alla Color OS Sarà online Tra qualche giorno Quindi iscrivetevi al canale Per non perdervelo Mentre le prestazioni Comunque abbiamo Mediatek E un Helio P90 E un Octagora Comunque abbiamo anche 8 giga di RAM Quindi da questo punto di vista Comunque la RAM è tanta E viene ben gestita Comunque le app Rimangono sempre In background Praticamente Ha funzionato davvero Molto bene Anche il processore Comunque per essere un Mediatek Comunque funziona bene Il telefono è sempre fluido E reattivo Siamo che ha qualche impuntamento Ma l'apertura delle app Comunque impiega poco tempo Il gaming comunque Funziona molto bene Non scalda Mai eccessivamente La tastiera Come vi ho detto L'agio e bordo E si riesce a scrivere Molto bene Parliamo invece di fotocamera Qua si Stiamo inferiori All'Oppoleno 2 Ma comunque Devo dire Che abbiamo una 48 megapixel F1.7 Una grande angolare Da 8 megapixel Un sensore da 2 megapixel Per l'effetto bokeh E una da 2 megapixel In bianco e nero Per la luce Quindi devo dire Che le fotocamere Sono tante E renderla bene L'apertura di fotocamera Mi piace Comunque ha molte funzioni Tutte facili da raggiungere Si può anche passare Da una fotocamera All'altra Mentre si scatta Lo scatto è rapido E comunque Devo dire Che gli scatti Anche con poca luce Si raccavano davvero Molto bene Ho fatto degli scatti In piazza A lenti L'altro giorno E seppur Fosse comunque Già buio Fosse le 6 di sera Comunque devo dire Che sono riuscito A catturare Ben dettagli Comunque le foto Sono venute bene Le ho state anche vedendo Ma comunque Anche di giorno Comunque vanno molto bene La grande angolare Funziona bene Comunque Ha un'ampia visione Bene anche le foto Da vicino Le macro Anche la modalità notte Mi ha colpito Comunque scatta davvero Molto bene La luce comunque Che cattura È notevole I video comunque Arrivano fino a 4k Solo a 30 fps Mentre la 1080 Fino a 60 fps Comunque devo dire Che vengono bene Sono luminosi Si comunque La stabilizzazione Si vede che manca Quella elettronica Rispetto a Reno2 Ma comunque Devo dire che I video sono convincenti Si nota comunque Che non c'è la stabilizzazione Elettronica Come sull' Reno2 Ma comunque Devo dire che Sono video che comunque Vengono bene Anche l'effetto bocca Comunque È piacevole Comunque viene bene Scontorna bene Mentre comunque Il quarto sensore Quello in bianco e nero Non ne capisco molto L'utilità Comunque Non è che serve molto L'hanno messo giusto Per avere 4 fotocamere Comunque Diciamo che 3 su 4 Comunque Le fanno bene Il loro lavoro Mentre i selfie Con la simpatica Popocamera Comunque mi sono fatto Un paio di selfie Comunque sono venuti Piuttosto bene Comunque Io direi che Lato fotocamera Per il prezzo Comunque Ci siamo assolutamente Mentre l'audio Comunque ha un volume alto Sente molto bene È solo mono Ma comunque Devo dire che Non mi sono lamentato Poi c'è anche Il gioco per le cuffie Cosa che sta sempre sparando Quindi a vello Fa comodo E c'è anche la radio FM Quindi da questo punto di vista Bene Mentre per quanto riguarda L'autonomia Abbiamo 4.000 Ampere Che dura parecchio Se arriva sempre a sera Arrivavo a sera Con circa 30 o 40% Quindi L'autonomia Che comunque Dura parecchio Magari fate anche Un giorno e mezzo Con un uso più leggero Io comunque ho fatto Tra le 3 e mezzo E le 4 ore e mezzo Di schermo attivo Giornata abbastanza pesante Comunque c'è anche La ricarica rapida SuperVoc Quindi si ricarica anche Velocemente Se per caso Fate un giorno e mezzo Quindi potete Ricaricarlo velocemente E continuare a usare Il telefono Siamo giunti alle conclusioni Il prezzo di listino È di 350 euro Comunque un prezzo Già onesto Ma comunque Visto che si riesce Già a trovare A 270 Circa O 300 Comunque Quindi un prezzo Che si fa sempre più interessante Un telefono comunque Che ha delle mancanti Rispetto all'Opore Eno 2 Ma comunque È comunque Molto consigliabile Comunque funziona bene Design spettacolare Ha uno schermo Molto bello Senza interruzioni Con la camera Pop up Comunque Avere uno schermo Senza notte Senza interruzioni È davvero Un'esperienza Molto pagante Perché comunque Ci si gode Medi contenuti multimediali Comunque Il processore Mediotech Ma comunque Gira piuttosto bene Abbiamo tanta Memoria Tanta ram Le fotocamere Convincono Sì il software Non mi ha convinto Spero comunque Che Oppo Possa limitare Perché comunque Come hardware C'è tutto Comunque Per questo prezzo Comunque Ve lo consiglio Poi se scende Ancora meglio Perché comunque Che l'Opore Eno 2 Comunque Continuerà a calare Anche lui Quindi Rimane comunque Un telefono Che è superiore Comunque Per questo prezzo Ve lo consiglio Io ringrazio Il ficeo stampa di Oppo Per avermi fornito Questo stampo Per la recensione Vi ringrazio Della visione In descrizione Link all'acquisto Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi ottimi video Lasciate un bel like E noi ci vediamo Alla prossima Sempre qua sul mio canale Ciao